Imminente impatto asteroidale, profezia del Signore. I governi e le istituzioni di questa terra vi diranno che questa informazione è falsa, ma la conviczione che senti nel tuo cuore ti sta dicendo che questo avvertimento viene dal Dio vivente. Chiedi conferma allo Spirito Santo, indipendentemente del fatto se vuoi servire il Signore Gesù Cristo, e indipendentemente dalla tua religione o luogo di culto. Questo è un appello per tutti, per prepararsi con Gesù Cristo. Gesù è il vostro rifugio unico per la salvezza e protezione nella tua vita e durante questo cataclisma. Non ci dovrebbe essere alcun timore in coloro che sono legati al Signore Gesù. Essere prudente e prestare attenzione ai Suoi avvertimenti. Tutti i paesi saranno colpiti per questo evento, soprattutto se sono parte del Carabbi, America Latina, Canada e gli Stati Uniti. Paesi europei riceveranno anche l'effetto dell'onda d'urto, lo tsunami e i conseguenti effetti. Questo evento non è la fine del mondo, e non fa parte degli eventi descritti nel Libro dell'Apocalisse. Non siamo ancora in la Grande Tribolazione. Questo asteroide non è l'assenzio in Apocalisse 8. Questo evento avverrà prima del rapimento della Chiesa. È una pulizia alla Chiesa apostata che vive in tutto il mondo, per preparare il residuo fedele che andrà nel rapimento della vera Chiesa. La Chiesa attuale non è pronta ad andare in il rapimento. Abbiamo poco tempo. Il messaggio è lo stesso per tutti. Preparate la vostra anima con il Signore Gesù Cristo, come l'arca della salvezza, e fate scorta di acqua, medicinali e cibo in quanto puoi. Le autorità si stanno preparando per almeno 15 mesi di scarsità. Se stai legato a Cristo, il Signore vi fornirà con quello che hai bisogno. L'impatto dell'asteroide avverrà alle 2 di mattina in mare, sul lato ovest di Porto Rico. Fare il calcolo del tempo equivalente nel vostro paese. L'impatto si fermerà la rotazione della Terra per tre giorni. Come voi sono nel vostro paese, al momento dell'impatto, sarà il tempo che il suo paese continuerà ad essere per questi tre giorni, sia giorno o notte. L'ordine degli eventi è 1. L'impatto di asteroide 2. La rotazione terrestre si fermerà a causa dell'impatto. Saranno tre giorni di buio in luoghi che non sono sotto la luce solare nel momento dell'impatto. 3. Terremoto di Terra di 12 punti, quasi allo stesso tempo. È la presenza del Signore sulla Terra. 4. Onda d'urto, onda d'impatto. Sarà venuta rapidamente perché si muovi a velocità incredibile. Porterà venti di 300 miglia per ora. 5. Maremoto o tsunami. Può prendere da secondi a ore per arrivare nel vostro paese, a seconda della distanza a cui il vostro paese è dal luogo d'impatto. Tutti i fiumi e bacini traboccherà. 6. Peste o pestilenza. Risultato di corpi decomposti in acque e terre, non seppelliti a causa di tre giorni di oscurità e a causa di inondazioni dei fiumi e mari. 7. Carenza, scarsità di acqua, cibo e risorse. Legge marziale in tutto il mondo sarà istituito per affrontare la carenza e il malcontento nella popolazione. Milioni di vite saranno perdute. Come preparare? Gesù, il Cristo, il figlio unigenito di Dio, è l'unica speranza. Nessun'altra persona, viva o morta, può salvarti o proteggerti, anche se si pensa che la persona è santa, santo, divina o divino. Nessun altro o altra ti può aiutare. Non troverete la salvezza, la sicurezza o la protezione pregando o aggrappandosi a qualcuno o qualcosa che non sia Gesù Cristo. Non la troverai. E senza Cristo, come unica speranza, potrà mettere in pericolo la tua anima, la tua vita e i vostri cari. C'è solo una via di salvezza. Gesù Cristo. Non esistono altri sostenitori, intercesori o mediatori davanti al Padre. Non è una possibilità. Questo è urgente e importantissimo. Stiamo parlando della sua vita e la sua anima. Comprenderlo. Non ci dovrebbe essere nessuna paura nel tuo cuore se siete coperti per il re dei re, il Signore Gesù Cristo, nella tua anima. I dettagli di come sta andando essere l'onda nella vostra zona, o quanto influirà l'onda d'urto, o se la peste verrà alla vostra zona, o quanto danno causerà il terremoto dove vivi, o come sarà il maremoto, o l'altezza del tsunami, o che ora accadrà nel vostro paese e regioni, sono dettagli irrilevanti e poco importanti se sono consegnati a Cristo nel vostro cuore e la vostra condotta. Gesù ha promesso protezione per coloro che credono nel suo messaggio e cercare la salvezza e la protezione di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo vi darà istruzioni su cosa fare se ti aggrappi a Cristo. È importante chiedere lo Spirito Santo i Suoi piani per voi e i vostri cari, prima e durante l'evento. Non si sposta dal luogo dove vivi, a meno che diretto dallo Spirito Santo. Ci sarà protezione ovunque voi siate, se spiritualmente sei legato al Signore Gesù. La parola di Dio dice in Apocalisse 3, 10 Poiché hai custodito la parola nella mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Riconciliarsi con Dio. Vieni ai piedi di Cristo. Non di paura, ma per la salvezza della tua anima prima e poi per trovare misericordia alla sua vita e la vita dei loro cari in questa prova. Ci sono angeli intorno alle nostre case, innumeròvi le angeli già sulla terra. Il Signore sa che Sua gente aveva bisogno di rifugio fedele. È la promessa del cielo. Dio si prenderà cura delle nostre famiglie se siamo legati a Cristo. È la Sua promessa. Per la Chiesa del Signore in Puerto Rico e in altri luoghi, nel nome del Signore, dico, non ci muoviamo da dove siamo a meno che il Signore attraverso il Suo Spirito Santo ci danno le istruzioni di quando uscire dalle nostre case. Le istruzioni per ogni persona saranno diverse e arriveranno in tempi diversi. Dobbiamo avere il coraggio e la fiducia in Lui senza perdere la fede. Non agiscono sulla carne e bruscamente attendere le istruzioni del Signore. Se il governo e le agenzie chiedono di evacuare la zona, è necessario farlo. È possibile per Dio utilizzare l'istruzione dal governo per proteggere Suoi fedele. La preparazione spirituale è primaria. Vieni a Gesù Cristo, in pentimento e abbandonare la tua vita a Lui completamente. È il tuo unico mezzo di salvezza e protezione, il Signore Gesù Cristo. Perdonare a tutti, abbandonare il peccato è la doppia vita. Siete responsabili di pregare il Signore per la protezione. Preghi per la protezione di loro vicini e parenti. Ungere le loro case con olio. Non c'è nessuna procedura o un olio d'unzione specifico per la vostra casa. Non è necessario un sacerdote, papa, pastore, obispo, santo, vergine, madonna, o chiun che altro, a benedire l'olio o la vostra casa. Perché Gesù Cristo è l'unico intercessore e avvocato tra voi e il Padre, Dio Geovà. Questo è tra te e Gesù. Non chiun che altro. È una questione di cuore. L'olio è un segnale esterno d'un cambiamento interno, che ancora, una nuova volta, dedichi la tua vita a credere, a favore e a servire a Cristo, e che dedichi tutte le vostre posizioni e tutto che sei a Lui, a Gesù Cristo. È possibile utilizzare olio di oliva puro e pregare. Si può leggere un passaggio dalla Lui.